Ciao ragazzi, oggi giornata di calciomercato particolarmente ricca, tutto insieme poi, cioè certi giorni proprio una amoria totale e poi pum 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 pum, questo compra questo, questo compra quella, quell'altro compra quell'altro, mi nonna compra amizia, cioè ben ritrovati, tra l'altro approfitto e pubblico questo contenuto sul secondo canale perché sul primo ho finito le feed per oggi, quindi per farvi arrivare la notifica, sto canale l'ho creato apposta, sto contenuto ve lo butto qua, quindi vi invito a seguirmi su tutti e due i canali, c'è pure un terzo canale YouTube se vi interessa, trovate tutto in descrizione o durante il video compariranno qui, parliamo di Marco Lazzi, ovviamente il nuovo calciatore del Milan, ma prima vi invito innanzitutto a lasciare mi piace per supportare i miei contenuti, vi invito ad iscrivervi, ad attivare la campanella anche su questo canale così non vi perdete mai le notifiche ogni volta che pubblico, raga più del 40% di voi si guarda i video tutti i giorni ma non è iscritto, se io pubblico ai due di notte e non siete iscritti, non vi arriva la notifica, non è che ogni volta state a guardare, cerchi i capo su YouTube oppure scorri la home, non è che state tutto il giorno a guardare, vi iscrivete, attivate la campanella, vi arriva sempre la notifica e restate sempre aggiornati direttamente sul cellulare. Detto questo, non mi ricordo se ho mai fatto i complimenti alla dirigenza del Milan per le operazioni di mercato che da un po' di tempo a questa parte stanno intavolando. Io credo che il successo del Milan degli ultimi periodi passi anche dalle scelte societarie dirigenziali che stanno facendo. Ovviamente Marco Lazetich è un giocatore particolarmente giovane che dovrà essere valutato sul campo, ma il mio discorso era un po' più generale e mi ricollego però all'acquisto di Lazetich classe 2004 ragazzi, quindi non stiamo parlando, cioè un classe 2004 perché secondo me la dirigenza del Milan ha capito che devono avere un giusto connubio tra giocatori d'esperienza e giocatori particolarmente giovani. È giusto all'interno della rosa avere calciatori d'esperienza che fanno un po' da chioccia a quelli più giovani, ma è altamente importante avere dei giovani, creare una linea verde, un progetto per crescerli in casa e poi ritrovarteli pronti per un futuro. In questo caso quando, perché prima o poi cari tifosi del Milano avverrà quando Ibrahimović, scusatemi, abdicherà. Stessa identica cosa in realtà, saldì per Dusan Vlaovic, per Olivier Giroud, non so se mi sono spiegato. Ebbene sì ragazzi, Marco Lazetich ovviamente tra l'altro ragazzi è definito il nuovo Vlaovic, io arzo le mani perché ovviamente, cioè si danno nomignoli e via dicendo, ma deve dimostrare tutto nel calcio che conta, quindi staremo a vedere, no? Però c'è qualcuno che ha tirato fuori sto paragone, quello che ha fatto nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno solare Vlaovic è un qualcosa veramente che te lascia a bocca aperta, però insomma qualcuno lo accosta, ecco. C'è una stazza fisica particolarmente importante perché è alto un metro e novantadue centimetri, forse anche un metro e novantadere da quello che ho capito? Stiamo là bene o male con Zlatan Ibrahimović, c'ha una stazza fisica particolarmente e il Milan perché fa un'operazione di questo tipo? Non ho parlato di cifre, ve ne parlo rapidamente, ovviamente il ragazzo proviene dalla Stella Rossa, dallo Stella Rossa, dalla Stella Rossa, ditelo come volete, ed è stato pagato dal Milan 4-5 milioni di euro, mi pare di aver capito, non più di quello, quindi per quello dicono, pagato poco significa che ancora c'ha tanto da dimostrare il ragazzo, è un attaccante per chi non l'avesse capito e il Milan fa questa operazione innanzitutto per attappare il buco lasciato da Pietro Pellegri, il Milan che aveva puntato su Pietro Pellegri, poi sono successe cose, situazioni, ok, Milan che ha preferito ovviamente virare su altro ed è anche giusto che, perché non è che uno può azzeccare tutte le scelte, no? Bisogna anche capire il periodo storico in cui si fanno determinate scelte e via dicendo, però in prospettiva secondo me, regà, non è sbagliata questa linea di pensiero, no? Senza pensarci troppo, se vedi che il carceratore non te convince appieno vai subito su altro, anche perché quanto potrà giocare l'Azetic per il Milan da qui ovviamente alla fine della stagione, ipotizzo, c'ha davanti dei mostri sacri come Ibrahimovic Giroud. Potrebbe essere chiamato in causa ovviamente, fate le corna tifosi del Milan nel momento in cui ci siano l'indisponibilità insieme dei Ibrahimovic e Giroud, cosa non impossibile può accadere perché sappiamo tutti ovviamente che Ibrahimovic e Giroud calcisticamente parlando hanno una certa età, no? Ma lui diciamo che è uno che secondo me potrebbe avere le capacità di farsi trovare pronto nel momento in cui verrà chiamato in causa, senza che vi parlo della storia del ragazzo, diciamo che alla Stella Rossa non è che ha fatto poi così tanti gol in realtà, è stato mandato in prestito a una squadra, però prima di aver giocato praticamente per la prima squadra era uno che di gol ne segnava affiotti, ne segnava veramente tanti, quindi potenzialmente è uno che, de potenziale ce n'ha, potrebbe fare il salto di qualità definitivo. La stazza fisica, le caratteristiche del calciatore molto lo avvicinano a Zlatan Ibrahimovic, tant'è che è stato preso anche e soprattutto per questo motivo, è in diciottenne, ve lo ricordo, qua comunque si parla di 4 milioni di euro, c'è chi dice 5, ma non so, la verità potrebbe stare nel mezzo, comunque 4-5 cambia cambia veramente poco. A livello fisico, l'ho detto, è particolarmente alto, non è neanche un calciatore poi così lento, certo, non è uno che te fa il cost to cost, non è uno funambolico come, che ne so io, come chiesa o via dicendo, è uno che ha altre caratteristiche, ma il Milan lo prende proprio pensando al futuro e pensando quando Ibrahimovic non ci sarà più. Una delle caratteristiche migliori della Zetic è saper far salire la squadra, proprio perché c'è una stazza fisica imponente, quando il Milan eventualmente si mette a giocare un po' di rimessa, lui è uno che in momenti di difficoltà si mette là col corpo, protegge e magari riesce a far salire la squadra. Il classico attaccante torre, se così lo vogliamo definire, no? A livello tecnico non è poi così male, secondo me non è paragonabile a Vlauic, devo essere onesto, Vlauic ha dimostrato molto di più ovviamente, però il ragazzo è tutto da scoprire, è tutto da scoprire perché sono tante le variabili ragazzi, dal momento in cui arrivi in Serie A e magari ti viene data la possibilità, è lì che magari prendi consapevolezza, che capisci di essere definitivamente all'alte, perché non tutti regà, non prendiamoci in giro, non lo so se è il caso dell'Azedic, potenzialmente può essere un giocatore veramente devastante, però quanti sulla carta quando arrivano in Italia dicono questo potenzialmente è una bomba e poi magari deludono quelle che sono le aspettative, perché è tutta una questione di testa, se il ragazzo a livello mentale dimostra di essere all'altezza di questo Milan, il Milan ha fatto secondo me in quel caso un colpaccio, non dico a costo zero perché è stato pagato, ma è stato pagato poca roba, nel calcio odierno ragazzi questi sono rischi che devono assolutamente essere fatti, soprattutto per cifre così esigue, dice 5 milioni di euro, da me a me 5 milioni di euro c'è campo cent'anni, sì, però nel calcio è un altro discorso, sono curioso di vederlo all'opera, ripeto non so quanto avrà possibilità di mettersi in mostra, ciò non toglie che il Milan potrebbe anche decidere in un futuro non troppo lontano, magari di girarlo in prestito da qualche parte per fargli fare definitivamente le ossa e farlo giocare con più continuità, io ipotizzo che la continuità non la può avere attualmente perché Neck arriva, ha pagato 5 milioni e gioca al posto dei Braimović e dei Giroud e li supera nelle gerarchie, è impossibile, capite bene quello che vi sto a dire, però la linea della società è, io intanto provo a puntare su un profilo di questo tipo, se è un'attività dei rischi ovviamente il calcio come tutte le attività imprenditoriali, se mi dice bene, per il futuro mi ritrovo un calciatore che mi può fare la differenza, fatemi sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, i profili social, i social, i social, i social, i social, le descrizioni, i contenuti consigliati e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video!